Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguori è morta improvvisamente la famosa giornalista italiana un grave lutto per il giornalismo e per lo sport nostranoi. Prima di saperne di più, prima di scoprire chi è mancato, vi ricordo che a 400 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video. È stato un triste risveglio per tutti gli addetti ai lavori della stampa italiana a soli 40 anni e molto probabilmente a seguito di malore improvviso ci lascia la talentuosa e popolare giornalista con grande rammarico che il primone di Marco Liguori annuncia il decesso e la giornalista Valentina Geraci aveva soltanto 40 anni la donna è deceduta a Torino in modo improvviso lasciando sgomento nell'ambiente giornalistico Valentina Geraci vantava diverse collaborazioni significative nel mondo del giornalismo e dello sport ha collaborato con testate prestigiose come Sky Sport 24, La Press, Tutto Sport e di recente come inviata dell'aria che tira sulla 7 Valentina Geraci, come si apprende da una nota, era appassionata di gatti e in generale di tutti gli animali lascia il marito, il giornalista Danilo Gobetto e facciamole più sentite condoglianze alla famiglia di Valentina Geraci che è volata in cielo davvero troppo presto, ha soli 40 anni e nelle scorse ore Amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video seguitemi anche sul secondo live di Marco Liguori, il canale dei video di Cronaca seguitemi anche sul nuovo canale Marco Liguori Psicologia e crescita personale Ciao a tutti